me la grazie bene signori, allora prima di salire direttamente poi verso la fabbrica abbiamo qualche regola, un comportamento da mantenere all'interno della fabbrica intanto, anzi, se non vi diamo il mio denuncio, io mi chiamo Barbara con me c'è Stefano, insieme faremo appunto saremo le vostre guide all'interno dello stabilimento o io o lui chiuderemo sempre il gruppo per cui siamo numerosi, per cui abbiamo delle regole da mantenere anzitutto vi chiediamo di seguire sempre il percorso pedonale che troverete sempre segnalato o a pavimento o tramite le pavine verticali quindi rimaniamo compatti vi chiediamo di non toccare materiale stoccato, porte chiuse insomma, seguiamo il percorso si possono fare foto se ne avete voglia attenzione a non riprendere i dipendenti se c'è qualche operai in giro non ci sono oggi di stabilimenti attivi, non c'è nulla di acceso diciamo, però potrebbero esserci delle manutenzioni degli operai in giro potrebbero esserci quindi particolare attenzione a questo non si può fumare in nessuno spazio all'interno, nemmeno dove vedete i punti di fumo sono quelli riservati ai dipendenti per cui se qualcuno fumasse tendere a ritornare qui ora facciamo un piccolo pezzetto per arrivare fino all'ingresso vero e proprio e poi iniziamo prego, siete qui prego, siete qui in salita prego, prego Grazie. Grazie. Grazie.